Se andassi in un governo io fieterei la libertà di stampa, la stampa non deve essere libera. No no scusa visto che ce l'hai con me, è un dibattito di me, dai un dibattito di me. Oh 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 dammi la cosa, non la puoi fare questa cosa. La dici, la dici, la dici, la dici. L'italia, l'italia, la dici. No 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 no. Le clip che avete appena visto sono state girate ad un incontro di pacifisti no armi a Roma. Nonostante io sia per un sostegno netto all'Ucraina, quando ho visto la locandina, conoscendo gli organizzatori, ho deciso di andare per capire se magari il loro punto di vista fosse più complesso e meno ridicolo di come appare su Instagram. Nel video appariranno parti dei loro interventi con mie considerazioni e ovviamente la parte in cui ho cominciato a fare domande, che potete intuire non siano state prese molto bene. Ok, sono arrivato nel covo di finti pacifisti e già i primi segnali sono molto incoraggianti. Sono già venuti a salutarmi, sono l'unica persona, a parte un signore, ad avere la videocamera. Dopo 30 minuti di ritardo finalmente l'evento inizia in un modo già non molto promettente. I giornali con l'elmetto, quello che riusciamo a vedere oggi con la stampa, con la Repubblichina, tutti i titoli straordinari su Zelensky, sull'Ucraina. Ma quando è cominciata però questa cosa? Quando è cominciato che i media europei sono diventati effettivamente i portavoci della linea ufficiale imperialista di Washington? Il primo a parlare è Niccolò Monti, antimilitarista come si può intuire dalla sua copertina profilo su Twitter, in passato segretario nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Su Medium si possono trovare loggia al Valcino Cubano. Nel suo curriculum spicca anche la collaborazione con l'Antidiplomatico, blog segnalato dall'intelligence come megafono del Cremlino, protagonista di campagna a sostegno dell'ex presidente della Commissioni Esteri del Senato, espulso dal Movimento 5 Stelle quando l'anno scorso twittò Buona festa della liberazione utilizzando la Z maiuscola, simbolo dell'invasione russa, per alludere alla presunta denazificazione dell'Ucraina che Putin starebbe compiendo, deportando bambini e bombardando i civili. Tralasciando questo splendido passato, Niccolò si è lanciato in una noiosissima ricostruzione storica, piena di propaganda sovietica, infilando paragoni improbabili con l'attualità. Non vogliamo e non abbiamo intenzione di accettare l'unificazione della Germania sotto qualsiasi termine con cui i russi andrebbero d'accordo. Quindi parliamo di un niet totale, lo stesso niet che c'è stata alla proposta di pace cinese. Tipo qui paragoni i dubbi sul piano di pace cinese, piano volutamente vago, costruito per posizionare la Cina in una posizione politicamente corretta per l'opinione pubblica occidentale, con una presunta dichiarazione di un generale americano che secondo lui avrebbe detto di no alla proposta dell'URSS di mantenere la Germania unita dopo la seconda guerra mondiale. Ma andiamo avanti. L'Unione Sovietica nel 52 con Stalin aveva chiesto l'ingresso nella Nato. Signori e signore, abbiamo scoperto che l'Unione Sovietica voleva entrare nella Nato. Ovviamente non è vero e questo mito ha confuso una battuta di Stalin con la volontà di ingresso nell'alleanza. Qui però, nonostante fossi annoiato e sconcertato dalla quantità di puttanate che stavo sentendo, non ero ancora arrabbiato, però poi sento questo. Sulla guerra in Ucraina abbiamo il 99% dei giornali che è schierato con l'Ucraina. Oh signora mia, c'è il mainstream che ci manipola, nessuno ce lo dice, ma porca puttana c'è Orsini ogni sera in TV. Madonna, vabbè, questo lo contesterò direttamente lì. Andiamo avanti con il prossimo ospite. Allora, buonasera a tutti, io sono Benedetta. Lei è Benedetta Sabene, conosciuta come Non mi piaci, candidata nel 2016 alle comunali di Roma tra le file del Partito Comunista. Secondo voci dagli ambienti di estrema sinistra, era uno dei volti di punta del fronte della gioventù comunista. Legata a Michele Santoro, giornalista con posizioni abbastanza interessanti, Benedetta cresce sui social da dopo l'inizio dell'invasione, grazie a dei post con like anche da personalità importanti del centro-sinistra italiano. Lei decide di partire raccontando Euromaidan, l'enorme ondata di proteste europeiste del 2013, che portarono alla caduta del governo di Yanukovych, colpevole di aver interrotto i negoziati con l'Unione Europea per avvicinarsi alla sfera di influenza russa. Parte della popolazione aveva questa richiesta di maggiore democrazia contro la corruzione, perché l'Ucraina è sempre stato purtroppo un paese in mano alle oligarchie, corrotto, che fossero governi filorussi o filo occidentali, il discorso non cambia. Però in queste proteste molto stranamente si sono inserite delle componenti politiche di estrema destra, parliamo di milizie letteralmente naziste come i propri Sertor, che hanno rovesciato in modo violento un governo. E già qui cominciava a salire nervoso, infatti nonostante sia vero che la corruzione è un grosso problema in Ucraina, le proteste nascono con una chiara vocazione europeista, la corruzione è soltanto un elemento che si aggiunge a questa situazione e soprattutto, avendo letto i suoi post, so che è una visione abbastanza particolare di come la situazione si sia riscaldata portando al cambio di governo. Ma continuiamo con il suo intervento, anche questo lo contesterò durante la conferenza. Ma qual è il problema del ZOMBASS in realtà? È vera la narrazione che in Donbass sono entrati con i carri armati russi nel 2014 a destabilizzare il paese? No, non è vero. In realtà c'è stata una sollevazione popolare e cosa chiedevano? Non chiedevano l'indipendenza dall'Ucraina, chiedevano autonomia. Volevano autonomia territoriale dentro i confini dell'Ucraina perché fondamentalmente non si sentivano rappresentati dal governo centrale. Esattamente come succede anche in Italia, dove abbiamo delle minoranze etniche verso il Sud Tirol. Vengono tutelate a livello costituzionale. Le minoranze del Donbass chiedevano esattamente la stessa cosa del Sud Tirol fondamentalmente. E l'Ucraina, detto di sì, è questa la cosa che nessuno dice. Il governo ucraino ha ratificato due accordi internazionali, gli accordi di Minsk 1 e gli accordi di Minsk 2, che non sono mai stati poi applicati. Tralasciando il fatto che l'invasione della Crimea, regione ucraina, fatto proprio con dei carri armati, non viene citata neanche una volta da Benedetta, la sua ricostruzione è estremamente faziosa. Infatti, già prima del 2014 ed Euromedan, la Russia finanziava giornali, associazioni e partito filorussi e separatisti, che diffondevano odio, amplificavano il ruolo dei gruppi di estrema destra e convincevano gli abitanti del Donbass che nell'Ucraina occidentale ci fossero lobby LGBT che volevano distruggere l'identità nazionale. E anche se è vero che nella popolazione era presente un desiderio indipendentista, motivato più che dalle differenze etniche e dall'importanza economica della regione, tipo la Lega Nord o qualche anno fa, per capirci, fin dai primi momenti dell'insurrezione, esponenti filorussi come Igor Gyrkin, ex ufficiale dei servizi segreti russi, presero la guida delle proteste e proclamarono la nascita delle due repubbliche indipendenti. Ma la parte più controversa di questo intervento è la dichiarazione sugli accordi di Minsk. Infatti, gli accordi sono successivi all'inizio di questo casino e prevedevano sì la concessione di autonomia alla regione, ma a patto che quelle regioni tornassero sotto il controllo di Kiev. Le regioni non sono tornate sotto il controllo ucraino e quindi non ci fu nessuna riforma per l'autonomia e gli accordi saltarono. In ogni caso, la vicenda è lunga e complessa e per approfondire vi lascio dei link in descrizione. Andiamo avanti con il prossimo ospite. Niccolò e Benedetta hanno detto tutto, grazie, stati un anno buonasera, versate qualche miliano di euro per Ottolina TV e siamo a posto. Ed ecco qui l'organizzatore dell'evento, Giuliano Marrucci di Ottolina TV, il Breaking Italy dell'estrema sinistra, sostenuto grazie alle donazioni, raccolte anche in modo particolare. Alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFanmi e chi non aderisce è Francesco Intraguglielmo. Marrucci non è uno qualunque, se ne intende di informazione, infatti ha lavorato per Report, programma di Rai3, televisione pubblica. Ma vediamo cosa dice nel suo intervento. Gli analisti critici, tutti i veri critici, cioè, lavorano dentro la macchina, nella propaganda, dicendo ma io dico il mio pensiero, per carità, hai ragione, ma il tuo pensiero, detto lì, è funzionale, a creare il fatto che noi siamo le società libere contro le società chiuse. Ma porco Giuda, non è che ti fanno sparare le tue puttanate per creare il pensiero che noi siamo una democrazia e gli altri no. Ti fanno sparare le tue puttanate perché sei in una democrazia e c'è la libertà. Ma andiamo avanti, non potrà andare peggio di così. C'è il final cazzo della pluralità dell'informazione, sia chiaro, nel senso. Cioè, noi siamo, cioè, nel senso, io sono contro la pluralità dell'informazione. Se io piglio dei governi, se io andassi in un governo, io vieterei la libertà di stampa. La stampa non deve essere libera. Non era ironico, era serio e l'hanno applaudito. Dopo questo comincio a fare le domande. Tu hai parlato comunque sia di informazione non libera e hai citato tutti, tranne forse Benedetta, mainstream o comunque sia queste cose. Io comunque sia vorrei ricordare che all'interno dell'informazione italiana c'è Orsini che hai citato tu. Credo l'unico personaggio che ha stato permesso sulla Rai di fare comizi da 30, 40 minuti da solo. C'è il Fatto Quotidiano che è un intero giornale che ha questa linea politica, la linea politica contro le armi. C'è l'avvenire anche che non è così tanto pro armi, c'è tutta quanta l'area cattolica. C'è appunto il Movimento 5 Stelle come partito che sostiene no alle armi. Berbi è sinistra italiana. Ci sono anche, paradossalmente, anche votando per le armi, ci sono grossi pezzi di Lega, di Forza Italia. C'è addirittura Berlusconi stesso che ha delle posizioni simili alle vostre. Quindi il termine mainstream effettivamente cosa vuol dire? No, vabbè, sulla questione, sulla questione. Quindi, cioè, ogni volta che si parla di mainstream, cioè mi sembra un attimino come quando la destra parla di mainstream, dei diritti LGBT, non esiste il mainstream. Semplicemente ci sono correnti di pensiero diversa. Quindi perché mainstream? Allora, io non nego che ci sia da parte di altri paesi, come diceva Giuliano, che sono più società chiuse rispetto alla nostra. No, no, io parlo di questo. Cioè, nel senso, l'informazione mainstream è quella che oggi, al 99%, ti dà un unico pensiero e un'unica linea per cui chiunque abbia un'altra posizione, insomma, è stata negata la partecipazione anche in piena guerra fredda. Non è che quelli del Partito Comunista Italiano non li invitavano in televisione o non li facevano parlare. Cioè, gli Stati Uniti avevano proposto di mettere fuori legge il Partito Comunista. Poi di Casper ha detto, voi siete matti. Però, non è che non c'è mai stato. C'è però un pensiero preciso, unico. Visco di rispondere a chi fa se lascia la parola. No, ti volevo dire, siamo comunque in un paese in cui queste persone di cui tu parli, cioè anche Maurizio Pezzosi dal Donbass, sono finite in prima pagina sul Corriere della Sera come spie filorusse. Nel senso, cerchiamo anche di tornare alla realtà e di capire, è vero, queste persone vengono fatte parlare, scrivono un articoletto sul giornale ogni tanto, però anche il clima è importante. Tu non puoi semplicemente, è vero che queste persone vengono fatte parlate in televisione, però tu non puoi fare questo tipo di analisi senza tener conto di come poi sul resto dei media vengono trattati questi personaggi. È normale secondo te che ci sono delle liste di proscrizione in cui c'è Orsini, Maurizio Pezzosi, che è un semplice reporter del Donbass e altri? È normale, secondo te? Secondo te? Secondo me è un po', diciamo, è indiso del clima. Beh, però questa cosa la fanno anche appunto un media come il Fatto Quotidiano, vengono riportati diciamo delle posizioni che magari sono anche appunto, semplicemente magari per l'invio di armi, però in cui si parla di trattative o altro, come posizioni di guerra fondale che vogliono la terza guerra mondiale, quindi la polarizzazione è di partisan. Dopo il primo scambio cominciano ad arrivare le prime contestazioni dal pubblico, ma decido di continuare e fare un'altra domanda. C'è qualcosa a tende, io ho letto tutti quanti i tuoi post, ad esempio tu appunto quando parli di Euromaidan, dai per scontato che i cecchini che puoi sparare sulla folla in Euromaidan? Non l'ho dato per scontato, ho citato... scusami. Aspetta, faccio il contesto, magari non lo seguo. Nel contesto Euromaidan... Io ho citato il post... Allora, su Euromaidan io ho citato il report di Kacianovsky, che è un professore all'università in Canada, ucraino, che ha scritto un dossier su Euromaidan e sui cecchini di Euromaidan. Quindi io ho riportato questo dossier, che è quello più completo, di un ucraino che vive in Canada, secondo cui i cecchini sui detti di Euromaidan erano delle forze dei manifestanti. Comunque, quanti governativi? No, non ha mai detto Previ Sector. Kacianovsky dice che i cecchini non facevano riferimento al governo. Punto. Quindi mi sta contestando Kacianovsky? No, non ho capito. Posso fare? La situazione da qui in poi diventerà ingestibile. Ho toccato un punto molto caldo. Durante le proteste di cui abbiamo parlato prima, infatti, i cecchini spararono sulla folla, facendo degenerare la situazione e portando a un cambio di governo. Lo studioso che cita Benedetta, nonostante le non neghi, afferma che a sparare fu Previ Sector Formazione di Estrema Destra. Tra l'altro lo dice anche lei in un carosello, però vabbè. In ogni caso la teoria è però molto contestata e altri esperti l'hanno definita non accademica, caotica e guidata da interessi politici. Ovviamente il fatto che lo studioso sia ucraino non conferisce più autorevolezza a quella teoria, perché esattamente come in Italia, anche in Ucraina ci sono diversi schieramenti. In ogni caso la teoria più accreditata è che siano stati uomini del governo filorusso a sparare. Però non è ancora stabilito con certezza e chi, come Benedetta ha studiato, dovrebbe avere l'onestà intellettuale di citare entrambe le versioni, per non essere faziosa. Purtroppo non sono riuscito a continuare la discussione dentro il locale, infatti il pubblico comincia a non apprezzare la mia presenza. Sto contestando il... Io intervenirei? Sì, 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 un attimo. Sto contestando... No, non posso parlare, scusate. No, non esiste. No, è finita la serata. Ha dimostrato che c'è... No, no, non ho dimostrato, è un diverso... Sta provocando, ha fatto dieci domande, è chiaro che la finalità è essere aggredito, non ti aggrediremo, ti vogliamo tanto bello... Non ti aggrediremo, ti vogliamo tanto bello e bello... Spero che ti è crescendo, insomma... La situazione si stava surriscaldando troppo e nonostante un ragazzo mi invitasse a finire, e decido che devo andare fuori per evitare qualche incidente. Nel frattempo Benedetta si alza e mi invita a proseguire fuori. Nel tragitto però la situazione peggiora ancora di più. Non ci interessi più, vai. Aiuta, ripetazionate. Questi sono quelli per la democrazia... Non ci interessi più, grazie. No, non è mai... Ho studiato, ho studiato. Allora, scusate, se non c'è le fracce, ho visto che prima sei male. Diceva che non si vede, eh. Saldi, soldi, soldi, soldi... Chi volessi dare il proprio contributo, mi volessi... Senti, chi ti paga? Chi mi paga? Non mi paga nessuno, lo faccio per tuoi scelta. Non c'è la parte, sai cos'è? La lista di proscrizione pure tutta. La lista di proscrizione, ma che state dicendo? Non ti sento anche, se si possono fare delle domande, io ho fatto un'altra domanda. Ma la domanda non la puoi fare. Ma che cazzo mi dai due euro? No, no, scusa, visto che ce l'hai con me, è un dibattito di mio. No, io non ce l'ho contato. È un dibattito di... Oh, oh, dammi, dammi la cosa. Non la puoi fare questa. La dita, lì, lì, la sento... Oh, no, 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 no. La insulti e risate, asco fuori, è un ragazzo, mi leva la telecamera e uno mi spinge. Poi sotto pressione di Benedetta mi ridanno tutto e cominciano a mettermi in mano soldi Sostenendo che sia pagato da non su chi Non mi potete spingere, tu mi hai spinto Sì, si è visto I due euro chi si me li ha dati? Non li voglio due euro Non mi paga nessuno Alla fine mi allontano e continuo la conversazione con non mi piaci sulla guerra A telecamera spenta fino a quando un ragazzo non si avvicina per riprendere E sono costretto ad attivare di nuovo la videocamera Per fortuna perché catturo questo momento Questione di merito, sono una questione che ti voglio rispondere sul mainstream Berlusconi Hai citato l'unico politico di fatti che istituzionalmente ha avuto il coraggio Le palle, la follia, di dire il termine che preferisci Putin ne voleva mettere dei bravi ragazzi in Ucraina Di dare un'analisi differente su tutta questione E viene blastato sistematicamente La pensa allo stesso modo? La pensa allo stesso modo? Non eravamo d'accordo su praticamente nulla Ma quantomeno non crede, come i suoi compagni, che Berlusconi abbia ragione Nonostante ci siano stati dei momenti spiacevoli Rifare questa esperienza altre cento volte Purtroppo ho constatato che i due interleputori E la stragrande maggioranza degli spettatori Hanno la stessa visione Che traspare dei social Costruita su menzogne, ignoranza, propaganda e odio per l'occidente Però anche visto che dietro il personaggio che 3-3 proprio non riusciva a sopportare C'è una persona che nonostante sia faziosa e con idee completamente diverse dalle mie Riesce a ragionare in maniera critica e non si è fatta trascinare dalla rabbia del momento Ma anzi ha insistito per continuare la discussione fuori Quindi purtroppo molte volte basta guardare la copertina per giudicare un libro Ma ci sono anche delle eccezioni E' tutto, alla prossima